Sul red carpet della mostra del cinema di Venezia si sono visti tanti figli VIP sfilare insieme ai genitori e catturare l'attenzione dei paparazzi. Sofia Loren con il figlio Edoardo, Isabella Ferrari e suo figlio Giovanni. E alla sfilata evento Giorgio Armani Privé One Night Only, tutti gli occhi erano puntati su Vittoria Puccini e la figlia Elena, avuta dal precedente compagno Alessandro Preziosi. L'evento si è svolto all'interno dell'arsenale, l'antico complesso dei cantieri navali e di officine situato all'estremità orientale di Venezia. Come madrina Sofia Loren, amica storica di Giorgio Armani, tantissimi i VIP del piccolo e del grande schermo, Luca Sbravo di Emily in Paris, René Jean Page di Bridgerton e ancora Miriam Leone, Barbara Palvi, Benicio Del Toro, Luca Guadagnino e tanti altri. Vittoria Puccini ha così deciso di presentare al grande pubblico la figlia Elena, proprio durante questo evento. Tutti hanno notato la somiglianza con il padre, Alessandro Preziosi, e sui social è stata una pioggia di commenti positivi. Vittoria Puccini ed Alessandro Preziosi si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa, una popolare fiction andata in onda su Mediaset, dove Preziosi interpretava un nobile e la Puccini una serva. Come dire, a volte gli amori nella finzione si tramutano in realtà. Alla prossima!